ciao sono diego stacchiotti fondatore e coordinatore della drum school scuola di batteria se sei ai primi approcci con le bacchette ti consiglio due esercizi del free stroke una tecnica nata per darti la possibilità di suonare nel modo più naturale e rilassato possibile questa tecnica ti aiuterà a prendere confidenza con le bacchette ma soprattutto ti darà molto controllo ci sarà utile poi quando studieremo nel successivo video la muller technique un'altra tecnica unità a questa che oggi vedremo assieme che ti darà veramente tutto quello che hai bisogno per suonare nel modo migliore evitando un affaticamento precoce risparmiando molta energia mantenendo sempre il relax muscolare e come nel caso mio ti aiuterà ad evitare spiacevoli inconvenienti quali tendiniti e altri problemi veniamo a noi allora ho detto due esercizi semplici ma fondamentali puoi pensare a questi esercizi come una premessa agli studi che poi vedrai nella sezione snare drum primo esercizio innanzitutto ti consiglio di lavorare lentamente una mano alla volta e possibilmente davanti allo specchio il primo esercizio consiste nel partire da questa posizione full stroke position e in maniera rilassata colpire e lasciare che naturalmente la bacchetta ritorni alla sua posizione di partenza ma per questo per essere sicuri di un buon rientro la mano che in questo momento non lavora quindi la mano sinistra rimarrà ferma ad indicare il punto di ritorno della bacchetta full stroke position la bacchetta colpisce liberamente torna su e si ferma alla medesima posizione dopo un po' di esercizio con la mano destra ripeteremo lo stesso lavoro con la mano sinistra questa volta sarà la destra a rimanere ferma ad indicare alla sinistra il punto di ritorno dopo questo primo lavoro potrai eseguire sempre lentamente alternando le mani in questo modo secondo esercizio partiremo sempre dalla full stroke position ma anziché ritornare come nell'esercizio che hai appena fatto alla medesima posizione ci fermeremo in un'altra posizione quella più bassa la low stroke position quindi vari colpi ripetuti con la destra full stroke position low stroke sempre con la mano rilassata carico poi con la mano sinistra full stroke position low stroke position dopo aver assimilato questo secondo studio ti consiglio di lavorare a mani alternate bene per questo primo video è tutto ti auguro buono studio e arrivederci al prossimo video dove parleremo in maniera dettagliata della Müller Technique